ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video oggi sono qua perché voglio capire insieme a voi una cosa la juventus costa troppo la juventus si sta muovendo nella direzione giusta rispetto a quelle che sono state le parole del presidente andragnelli qualche anno fa e quindi oggi cerchiamo di fare un punto della situazione perché ve lo dico subito la juventus è la squadra con i costi di gestione più alta in italia quindi per forza di cose dovrebbe essere anche la squadra migliore sotto il punto di vista sportivo quella che rende di più e invece lo sappiamo da due anni a questa parte la juventus si classifica al quarto posto nel campionato italiano a che punto è il progetto di svecchiamento e di riduzione dei costi che era stato annunciato all'eliminazione con il leone cerchiamo di fare un bel viaggio all'interno di quelle che sono le dinamiche societarie quindi economiche quindi di programmazione sportiva e vediamo che cosa sta accadendo alla juve perché tante volte si parla di questo progetto legato alla juve e tanti tifosi faticano a identificare un progetto vero e proprio io stesso tante volte mi sono ritrovato a dire ma che cosa stiamo facendo e invece legando tutte le cose mettendo in un calderone cercando di osservare ovviamente il tutto e non soltanto il singolo avremo un chiaro quadro della situazione più che chiaro un po più chiaro rispetto a tante cose che davvero ci hanno fatto interrogare anche qua sul canale tante volte ne abbiamo parlato e vi ho sempre detto non sto capendo in che direzione stiamo andando però guardandolo un po più nel generale forse le cose iniziano a sembrare più logiche allora intanto oggi è il dodicesimo anno di presidenza di andrea agnelli la juventus ha ricordato con un tweet e io mi sono permesso di rispondere con quella che è la mia posizione io ho detto grazie di tutto press non dimentico gli anni precedenti al tuo arrivo dove veramente si navigava a vista si faceva molto male così come il sogno che ci ha regalato nella golden age perché gli anni in cui abbiamo vinto ragazzi è ovvio che sono stati anche grande merito di agnelli che era riuscito a costruire questa società e questa squadra che in italia ha dominato e stradominato ora però bisogna ricominciare perché come ben sai all'eventus conta vincere e non siamo per nulla soddisfatti degli ultimi anni quindi basta errori ma questo basta errori è un grido di speranza perché se continuiamo la linea che abbiamo seguito nelle ultime due stagioni probabilmente verremo superate anche da altre squadre abbiamo già annullato il gap nei confronti dell'inter del milan addirittura quest'anno del napoli l'anno scorso dell'atalanta quindi dobbiamo cercare di riemergere di risorgere un po dalle ceneri come l'araba fenice quindi benvenga il dodicesimo anno di presidenza agnelli benvenga dare un ultimo anno di continuità a questo progetto ma quest'anno deve iniziare veramente a dare i suoi frutti perché come vi dicevo ieri se no tifosi della juventus difficilmente daranno fiducia per un'altra stagione se dovesse esserci la terza stagione in cui la juve non va a competere né in italia né in europa quindi quest'anno penso veramente che la juventus debba fare qualcosa di più specialmente nell'anno del centenario degli agnelli perché 2023 sarà l'anno numero 100 di gestione agnelli a livello di juventus quindi immagino che vorranno cercare di fare qualcosa di veramente grosso e di concreto per festeggiare un traguardo che nel calcio di oggi veramente è qualcosa di allucinante e quindi le parole di agnelli no poste di immaginazione con leone mi è capitato di sentire più volte che abbiamo una delle rose più vecchie d'europa quindi può essere un elemento di riflessione ovviamente questa cosa l'ho presa da sky la juventus era una delle squadre più vecchie della champions league e aveva un'età media di 29.7 anni che sono tanti sono tanti e infatti in quel momento la juventus doveva cercare di svecchiare la juventus l'ha fatto diciamo la verità l'ultimo scudetto vinto dalla juve quindi quello di sarri è stato lo scudetto del fine ciclo e lo vedremo anche tra poco perché queste sono poi le età medie successive quindi della stagione di pirlo la juventus è passata appunto dai 29 anni abbondanti ai 27 che aveva il rosa andrea pirlo poi ci sono le età medie in campo schierate dagli allenatori durante la stagione in serie a nel 2018 2019 allegri aveva 27.6 come possiamo immaginare l'anno dopo sarri aveva una squadra ancora più vecchia perché ovviamente è passato un anno in più quindi i giocatori hanno accumulato un anno è sempre più facile aumentare l'età media anno dopo anno se non fai dei grossi cambiamenti sarri ha avuto la squadra più vecchia quella che ha vinto l'ultimo trofeo e l'ultimo scudetto e che poi è arrivata a fine ciclo quindi 28.4 compirlo si abbassa notevolmente a 27 sorpresa delle sorprese perché non avrei mai pensato inferiore all'età media di pirlo pensavo bene o male lì ma inferiore addirittura è clamoroso 26.8 di allegri quest'anno quindi degli ultimi quattro anni questa è la juventus più giovane a livello di giocatori che sono andati in campo effettivamente nella juve questi dati li ho presi del transfer market e mi sembra anche logico paragonarmi un po alle big d'europa quindi le quattro squadre che secondo me sono le squadre più forti d'europa è il madrid 27.2 liverpool 27.7 city 27.0 bayern 26.2 quindi siamo praticamente più giovani di tutti tranne che del bayern che rimane la squadra più giovane ma quello è un modello che magari seguire il modello bayern monaco penso che sia anche un modello difficilmente replicabile soprattutto in italia perché per numerevoli ragioni che che conosciamo bene ma bayern conti a posto età media bassa rendimento in campo elevatissimo quindi veramente è la squadra da imitare sarebbe fighissimo riuscire a imitare il modello tedesco del bayern monaco andiamo avanti perché vi dicevo che quella di sarri è stata quella più fine mercato perché nel mercato che c'è tra sarri e pirlo perdiamo matuidi pianici daglas costa e guine che dirà ragazzi non so se avete capito le eccessioni che abbiamo fatto in quell'anno lì e come potete vedere inizia a esserci un'inversione di tendenza perché la juve acquista chiesa kluseski mckenny morata artur morata l'unico se vogliamo un po vecchiotto il più vecchio tra questi acquisti con allegri compriamo locatelli ken cajorga zaccaria vlaovic è ancora sulla falsa riga se vogliamo quello un po più vecchio e zaccaria auto ronaldo fondemiral fra botta ramsia vintanguro e kluseski e ora si inizia a pensare a un mercato in cui avremo pogba di maria perisi cacerbi nome nuovo di ieri sera con out di bale chiellini come potete vedere allora intanto due cose da analizzare dal mercato post eliminazione con lione sempre acquistato profili giovani ufficialmente per ora e abbiamo sempre cercato invece di salutare giocatori che hanno fatto la storia della juve pensare che le ultime tre stagioni hai ceduto matuidi campione del mondo pianici super titolarissimo daglas costa giocatore che quando stava bene giocava sempre iguaino degli acquisti più onerosi della tua storia che dirà uno degli ultimi centrocampisti davvero forse l'ultimo centrocampista goleador anche lui campione del mondo con appena internazionale ronaldo non c'è bisogno di presentarlo buffon men che meno dibala che sappiamo essere uno dei dieci giocatori che ha segnato di più una storia della juve e chiellini che era la juve da 15 anni cioè perdere questi giocatori nelle ultime tre stagioni significa veramente voltare pagina dall'altra parte abbiamo sempre acquistato giocatori invece che avevano tutta la carriera davanti mi viene in mente emblematico no al caso Kuluseski lo compri e poi lo cedi ci sono stati degli allenatori di mezzo Kuluseski era stato trattato all'epoca con Sarri in panchina era stato provato da Pirlo anche Pirlo non aveva tirato fuori chissà che cosa da Kuluseski qualcosa si intravedeva ma niente di più con Allegri invece è stato un vero e proprio disastro non è scattato l'amore quindi si è deciso di sacrificare uno degli acquisti che era stato fatto in funzione del nuovo progetto per andare a reinvestirli su un calciatore come Dujan Vlaovic e ora appunto l'inversione di tendenza perché i nomi degli in di quest'anno sono Pogba di Maria Perisic e Acerbi il giocatore più giovane è un 29enne quindi che cosa sta succedendo la juve di questo già parlato anche ieri no in un video oggi voglio andare un po' più nel dettaglio per una visione di insieme più accurata e quindi vi porto questo tweet di Evere Giuventino Guy dati presi da gazzette calcio e finanza questo è molto interessante la juventus è la squadra col monte in gaggi più alto come dicevo prima allo stesso tempo è anche quella che l'ha ridotto di più negli ultimi anni in particolare in questa stagione come potete vedere poi se volete concentrarvi anche sulle altre non è un problema stagione 2019 2020 quindi quella di Sarri 294 milioni di monte in gaggi la stagione successiva compirlo 236 milioni di monte in gaggi quest'anno 172 milioni di monte in gaggi che cosa significa che abbiamo perso 122 milioni di euro di monte in gaggi nelle ultime tre stagioni abbassato l'età media ridotto del 41.5 per cento drasticamente ridotto nelle ultime tre stagioni pesa ovviamente tantissimo di cristiano ronaldo che valeva all'ordo 62 milioni però le parole di agnelli erano chiare abbassare l'età media l'abbiamo fatto l'abbiamo visto e abbassare il monte in gaggi per rendere la squadra più sostenibile lo abbiamo fatto l'abbiamo visto qua c'è da aprire una parentesi grandissima la juventus è stata costretta a vari aumenti di capitale nel corso degli ultimi anni una società che lavora in una maniera logica e coerente non ha bisogno di questi aumenti di capitale anzi probabilmente una società senza exor alle spalle in questa condizione come quella della juventus sarebbe semplicemente saltata in aria sarebbe fallita quindi per la juventus è una grande fortuna avere exor alle spalle avere john elkan alle spalle la famiglia elkan la famiglia agnelli che sono la juventus è gestita dalla famiglia l'ha ricordato anche chiellini l'altra sera e credo che questa sia davvero la più grande fortuna della juve semplicemente perché non avremmo potuto gestire così quello che abbiamo gestito negli ultimi anni anzi qualsiasi altra società in italia avrebbe fatto una brutta fine questo è da ricordare assolutamente per sottolineare quegli errori di cui vi parlavo all'inizio quelle cose che non mi sono piaciute negli ultimi anni e soprattutto quel gap che è stato tremendamente divorato ma era anche forse troppo veloce da squadre che sembravano distanti anni luci dalla juve l'obiettivo è ridurre il monte ingaggi nuovamente sui giocatori non più utili per pagare quelli che invece arriveranno sul mercato vi faccio qualche esempio sempre da calcio e finanza ho preso fuori questa tabella ok questi sono gli stipendi della juventus quindi non solo età media abbassata come dicevo ma anche monte ingaggi ridotto dobbiamo iniziare a ragionare sul lordo piuttosto che sul netto io stesso tante volte vi ho detto sì però rabbio guadagna 7 milioni di euro all'anno non possiamo permettercelo è vero però rabbio usufruisce del decreto crescita e quindi il lordo di rabbio è 9.17 per intenderci il giocatore più pagato della juventus era paolo di bala 13.51 perché perché non avendo il decreto crescita praticamente raddoppiava lo stipendio per via delle tasse da pagare poi ci sono vlaovic e zaccaria che andranno moltiplicati l'anno prossimo perché per due circa per due lovic dovrebbe essere sui 6 e mezzo addirittura zaccaria sui tre però prendiamo queste cifre perché ovviamente qua abbiamo pagato soltanto i sei mesi che che vanno da gennaio a giugno no quindi non abbiamo praticamente avuto tutte le mensilità da riconoscere ai calciatori infatti dovrebbero essere forse cinque mesi perché hanno fatto da febbraio a giugno se non vado errato quindi appunto dovrebbe essere sei e mezzo e tre quindi dopo calcoleremo con sei e mezzo e tre che cosa significa che la juventus ha ceduto bentancur e kuluseschi ok a gennaio perché guadagnavano 4.62 ok da qui alla fine dell'anno e quei 4.62 l'hanno reinvestito in zaccaria che guadagna 1.64 quindi la juventus ha guadagnato qualcosa perché aveva stanziato per quei calciatori lì quello bilancio lì quella parte di bilancio lì e invece zaccaria prende meno e quindi abbiamo ovviamente un giocatore meno ma abbiamo risparmiato qualcosina stessa cosa per ramsey vlaovic non abbiamo pagato semplicemente cedendo ramsey a gennaio praticamente lo stipendio è stato utilizzato lì chi sono i calciatori che ora rischiano un po di più penso a cesni penso a bonucci penso a quadrado che però dovrebbe aver innovato forse un pochino meno non lo sappiamo ancora se c'è stata una riduzione dell'ingaggio da parte di quadrado non è stato detto morata forse la juventus non lo riscatterà o comunque non vorrà investire quella cifra per morata non lo so però guardando un po i giocatori che sono rimasti nella rosario juve quelli sono quelli che rischiano un po di più ovviamente ci sono rabbio alexandro io credo artur bernardeschi che in scadenza non andrà più a guadagnare quella cifra lo stesso ramsey la juventus un po più permetterci quella cosa rugani ragazzi rugani ogni anno di rugani alla juventus costa 6.48 milioni di euro de sciglio che ha rinnovato al ribasso prima costava 5 milioni di euro per intenderci l'anno di de sciglio è costato quasi come i sei mesi di blauvic per darvi un esempio quindi la juve deve ragionare sui lordi deve iniziare a capire anzi lo ha già iniziato a capire molto prima di noi e sta lavorando appunto in questa direzione che i calciatori non possono più guadagnare quel lordo e ovviamente ogni calciatore in grado di rendere qualcosa di più ha diritto a più soldi per dire delit guadagna 8 col decreto crescita sono quasi 11 milioni di euro all'anno che la juventus paga per delit ma la juventus lo fa volentieri perché il rendimento di delit sul campo poi c'è e probabilmente è stato anche questo il ragionamento che ha spinto la juve a non offrire ad ibala un rinnovo di contratto perché avrebbe dovuto farlo sicuramente al ribasso ma avrebbe comunque guadagnato delle cifre che forse la juventus non voleva più investire sul ragazzo per via di innumerevoli cause che possono essere da quelle tattiche quelle tecniche quelle lato infortunio questo purtroppo non ve lo so dire però la juventus è stata chiara quando ha parlato nedved quando ha parlato arriva bene non volevamo spendere quei soldi su di bala ci sarebbe venuto a costare troppo per quella che è l'idea di di bala in questo momento sono scelte e come vi dicevo ieri io non sempre sono d'accordo con quelle che sono le scelte della juve ad ogni modo la juventus per in stesso che ha rinnovato al ribasso quindi non costerà 4 milioni e 26 ogni anno la juventus ogni anno come potete vedere ha circa 170 milioni di euro con questi giocatori tesserati in rosa a cui riconoscere e quindi va abbassata ulteriormente questa percentuale ma va anche aumentato il livello della squadra non è facile lo capite davvero anche voi bisogna cercare di ridurre i costi e renderci più forti non è per niente facile per intenderci la cessione di di bala potrebbe andare a pagare lo stipendio di di maria forse qualcosina di diverso anche perché di maria si sta lottando su un anno due anni secondo il decreto crescita questo andremo a vedere quella di alexandro invece permetterebbe praticamente di pagare lo stipendio di pogba adesso ve lo mostro perché mi sono fatto questa tabella prendendo i dati che abbiamo appena visto mettendo le cifre che si leggendo sui giornali ipotizzando che di maria possa avere il decreto crescita che pogba possa avere il decreto crescita addirittura qua vi ho messo lo stesso a cerbi per chi riserva è venuta fuori la voce di un ipotetico scambio a cerbi per rugani se la juventus ha la possibilità di togliersi di mezzo quei 3 milioni circa di rugani ogni anno e va a offrire ad acerbi 1.5 lo fa di corsa perché la juventus non è innamorata di rugani sta aspettando soltanto di averlo alla fine del contratto per eventualmente magari proporre pure un rinnovo stile de sciglio stile berrandeschi a ribasso guarda io ti tengo anche se una seconda linea giochi quello che devi giocare poco ma questi costi di gestione non li posso avere su di te se accetti bene se no vado a cercare un profilo che mi accetta il costo di gestione rapportato a quello che è lo status del calciatore quindi non un titolare quindi non un calciatore che mi deve fare la differenza quindi una seconda linea ora io qua gli ho fatto una formazione a caso no secondo quelli che sono i rumor di mercato e ovviamente mancherebbero ancora altri giocatori come un terzino sinistro titolare un difensore centrale titolare però ovviamente non considero nemmeno i vari gatti fagioli rovella sure miretti de vinter e almeno due o tre di questi li vorrei in prima squadra quindi abbiamo ridotto eventualmente i costi di gestione perché siamo andati a 135 secondo questi dati secondo il decreto crescita secondo gli acquisti abbiamo secondo me sì non soffermatevi sulla formazione titolare magari uno vuole chiesa sinistra uno vuole di maria destra uno vuole quadrado titolare non mi interessa soltanto per darvi un'idea di quella che è la rosa e di quelli che sono i colpi di mercato quanto mi riguarda avremmo migliorato sensibilmente l'organico avremmo ridotto i costi di gestione probabilmente avremmo aumentato l'età media ma c'è un grosso ma perché perché l'ideale sarebbe quello di avere una rosa di 11 15 giocatori esperti come vuole allegri titolarissimo comunque semi titolari e a seguito alcuni prodotti del settore giovanile da inserire gradualmente fino a renderli dei veri propri perni della juventus a patto che la juventus dice va bene allegri tu vuoi dei giocatori titolari con un certo status che hanno avuto una certa esperienza internazionale magari di personalità perché sei più bravo a gestire questo tipo di profili ok però tu in cambio inizi a ragionare sul fatto che non esistono solo questi giocatori e inizi a buttare dentro alcuni giocatori che sono già nostri senza bisogno di tornare sul mercato faccio l'esempio più banale che mi viene in mente a dare i sette netti netti che poi sono va bene nove lordi a rams e rabbio di turno o all'artur perché non siamo più in grado di pagare così tanto dei giocatori che non rendono come dovrebbero e quindi delle due fagioli è nostro gli diamo un milione un milione e mezzo per iniziare bene nell'arco di due stagioni magari verrà chiederci tre milioni quattro milioni ma significa che è diventato un giocatore nostro senza dover spendere dei soldi nel mentre che quelli che ti abbiamo preso e che nell'immediato ti rendono poi andranno ovviamente in scadenza di contratto incontro a finale di carriera allora ecco che ci siamo formati in casa al 1 2 3 giocatori all'anno sparo un numero a caso che possano tornare utili per il futuro questa deve essere la logica e la gestione della juventus appunto ieri sera rams e ha sbagliato il rigore no ha perso la finale d'europa league per via dell'errore di rams e ha dischetto vabbè capita però i casi rams e rabbio sono emblematici sono dei parametri zero con quattro anni di contratto a cifre altissime ecco no questo non deve più accadere la stessa cosa per artur valutato ipervalutato super plus valenza con pianice però anche livello di ingaggio pagato troppo tra l'altro altro giorno mi dicevano guardate che artur in realtà guadagna molto di più rispetto a quelli che sono i dati che sono circolati potrebbe avere uno stipendio molto più alto tra l'altro occhio anche rinnovi a stile alexandro rugani eccetera perché siamo adatti a rinnovare dei calciatori per due tre quattro anni andando a garantire cifre altissime che non possiamo più permetterci e per quanto mi dispiace per quello che prima dicevo io tante volte anche il rinnovo di di bala quante volte vi ho detto io di bala l'avrei innovato indubbiamente però ragionando sull'insieme e secondo quello che vi ho fatto vedere volenti o nolenti ho scritto anche il non rinnovo di di bala va in quella direzione per non rischiare di fare lo stesso errore che abbiamo fatto eventualmente con alexandro con manzukic con chedira negli anni precedenti mi dispiace avete visto le mie lacrime nell'altra sera avete visto tutti i miei video in cui continuano a dire che io avrei rinnovato di bala però se vado a ragionare secondo la visione di insieme della juventus e della linea che è stata presa purtroppo capisco magari non condivido oggi spero che questa linea che ha scelto la juventus e ribadisco che oggi non condivido possa risultare vincente e ritrovarmi qui tra un anno a dirvi meno male che la juve ha preso quella decisione perché poi i risultati sono stati questo questo e questo e quindi per concludere quasi perisic che un classe 89 massimo due tre anni forse più due che tre due più un opzionale non lo so togba classe 93 la juventus ha offerto tre anni di maria classe 88 addirittura lui vuole un anno la juventus ne vorrebbe due per usufruire del decreto crescita come abbiamo visto è uno sgravo importante come un solo anno di contratto più un opzionale non ci si riuscirebbe quindi due sembra il numero giusto poi magari a fine anno ci si mette d'accordo e ci si saluta gratis l'importante sarà valutare bene i calciatori il loro stato fisico e livello agonistico attuale per esempio perisic no viene dalla stagione da trascinatore con l'inter forse la sua migliore stagione in carriera pogba viene da una delle sue peggiori poi ovviamente dobbiamo ragionare sul fatto che il nostro centrocampo è di livello basso la premier league è di livello alto rispetto alla serie a e quindi il giocatore potrebbe esprimersi nettamente meglio cosa che ha già fatto anche in passato quindi secondo me sono tante le valutazioni da prendere in esame l'ultima cosa questo è proprio il riassunto generale il mio sogno quello di vedere una juventus con un'età media ancora più bassa rispetto al passato che non significa che se vai ad acquistare perisic pogba e di maria ce l'avrai più alta perché magari vai a inserire qualche ragazzo innesti di qualità ed esperienza come richiesto da allegri perché se l'allenatore vuole andare in una direzione la società nell'altra loro tanto vale salutarsi stringersi la mano dire no questa cosa non può funzionare perché voglio una cosa tu ne vuoi un'altra se si va avanti insieme ci si viene incontro la juventus mette a disposizione allegri la squadra che vuole allegri però segue la linea che ha tracciato la juventus inserendo in organico alcuni calciatori di età minore o con zero esperienza perché magari vengono appunto direttamente dalla cantera dall'unter 23 quello che è costi di gestione ancora minori abbiamo visto che è possibile nonostante l'acquisto di determinati giocatori almeno un paio di ragazzi del vivaio appunto come giocatori effettivi della prima squadra non che debbano andare a giocare in under 23 e che quindi quella volta dicevo lo convoco perché devo andare a giocare in under no lo convocchi perché è un giocatore della prima squadra e fa parte della prima squadra come è stato per pellegrini quest'anno rimane si gioca le sue carte e col siano in poi meno male che è rimasto pellegrini saremmo andati veramente in merda senza pellegrini come abbiamo fatto negli ultimi anni tra l'altro giocando solo con alexandro terrestino sinistro una juve che possa tornare a lottare almeno in serie a e per la coppa italia per vincere almeno uno dei due trofei e vincere qualcosa perché dobbiamo tornare a vincere dopo un anno senza titoli bisogna tornare a vincere dopo due anni di quarti posto bisogna arrivare almeno terzi secondi o magari davvero vincere la serie a perché la juventus ha dei costi di gestione importanti rispetto anche ai competitors agli avversari e quindi bisogna giustificarli questi costi di gestione se no semplicemente il progetto risulta fallimentare agli occhi dei tifosi e agli occhi di chi lavora internamente alla juventus che possa migliorare il piazzamento europeo degli ultimi tre anni perché se per tre anni esce agli ottavi significa che tu ti meriti di uscire agli ottavi e allora sarà necessario cercare di superare almeno gli ottavi arrivare almeno ai quarti e poi anno dopo anno cercare di migliorare sempre più ovvio mi piacerebbe vincere la champions league indubbiamente faccio un po' fatica a pensare che la juve l'anno prossimo possa vincere la champions mai dire mai però insomma partiamo con i piedi per terra veniamo da tre eliminazioni negli ottavi due quarti posti un anno ma zero titoli piedi per terra se questo sarà possibile tramite l'acquisto di qualche giocatore sopra la trentina ben venga a patto che poi si vada a bilanciare con qualche calciatore di casa nostra questa credo che sia veramente la linea da seguire l'abbiamo visto anche le altre big in europa le quattro squadre che secondo me sono più forti al mondo non è che hanno un'età media di 23 cioè non è che c'è la necessità di farci questo viaggio di avere 22 anni in campo di media non è questo il punto me va bene cioè preferisco un giocatore anziano forte piuttosto che un giocatore giovane scarso cioè quando non si scappa l'importante è che si vada avanti con un'idea il progetto è quello di abbassare anno dopo anno l'età media o comunque mantenerla attuale tale quale perché ogni anno ogni giocatore cresce ogni anno bene continuiamo su questa falsa riga l'obiettivo è abbassare i costi di gestione bene l'obiettivo è tornare a vincere qualcosa tornare a essere competitivi in europa bene allenatore che cosa ti serve questo 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 bene ok però la nostra volontà è quella di crearci almeno un giocatore all'anno in casa che possa essere titolare perfetto ci veniamo in conto questo perché se mancano queste cose se manca la volontà di intenti se manca l'andare avanti sul binario parallelo chiudiamo tutto credo anche che la juventus negli ultimi due anni abbia raggiunto degli scarsi risultati a livello sportivo proprio per questo e cioè una volontà di andare in una direzione completamente inedita e dimenticare che c'è bisogno anche di quei giocatori di personalità di qualità e che hanno vinto ribadisco uno spogliatoio che perde ronaldo buffon chiellini dibala chiedira iguain pianic douglas costa matuidi ragazzi le senti eh le senti davvero io non so quanti di voi abbiano giocato a calcio chi è stato uno spogliatoio banalmente in campo quando non sai che cosa fare la palla chi la dai la palla che scotta sono dei giocatori che non la sentono la temperatura del pallone non lo sentono il peso del pallone altri giocatori sì perché magari in quel momento non hanno la personalità la andranno ad acquisire nel giro di un paio di stagioni serve adattamento e buttare in mezzo i giovani alla mischia e più dire dai risolvimela è più di danno che di utile a volte più di danno che di utile quindi preferisco una squadra un'età media alta con quattro cinque giovani squadra che andranno a crescere sulla falsa riga sulle orme di questi giocatori poi ci sono le eccezioni qua ve ne metto una ma thais delit ha 22 anni secondo me è uno di quelli che potrebbe spiegare all'interno dello spogliatoio della juventus cosa significa essere la juventus ed è per questo che ho tante volte vi ho detto la fascia la capitano andrei a dare a lui perché è uno dei giocatori più carismatici che si vedono uno dei giocatori più intelligenti uno dei giocatori più avanti ma semplicemente perché dritto è un fenomeno e infatti la juve gli riconosce uno stipendio alto nonostante il ruolo nonostante la giovane età ed è uno dei giocatori che ha giocato di più in questa stagione e come vi dico sempre secondo me è stato anche il miglior giocatore della stagione vi chiedo scusa se sono andato particolarmente per le lunghe ma c'erano tante cose da dire e spero che abbiate avuto una visione diversa rispetto a quella che magari c'era prima dell'inizio di questo video